15 giorni di mistero fitto, contraddizioni, molti dubbi e un'unica certezza, un'arma che ancora non è stata identificata. Cosa è successo davvero la mattina del 16 maggio scorso nella villetta di Biella, dove abitavano la influencer di origini marocchine, Sukain El Basri e il marito 36enne, giorata al Maldonato? I pochi punti fermi sono contenuti nero su bianco sul provvedimento di fermo prima e sull'ordinanza di custodia cautelare poi, emessa nei confronti di Maldonato, accusato dalla procura di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. Alle ore 8.02 Maldonato chiama al 112 e chiede l'intervento del 118 perché, e riferisce, la moglie ha riportato gravi ferite al torace e zampilla sangue. La versione resa ai sanitari da entrambi è questa. Siu è caduta accidentalmente mentre preparava la valigia e ha sbattuto contro un mobiletto bianco. La donna presenta una ferita di 5 mm di diametro. Maldonato racconterà alla polizia di essersi svegliato alle 6, di essere sceso al bar a prendere un caffè e di essere rientrato alle 7.15, dopo che la moglie lo aveva ripetutamente chiamato per chiedergli di preparare le loro due bambine per la scuola. Quindi, mentre preparava la valigia, sarebbe caduta in camera e lui l'avrebbe soccorsa. Poche ore dopo, ecco un'altra versione, mentre Maldonato vestiva le bambine, sente un rumore forte provenire dalla cucina. È un rumore che conosco perché lei fa sempre così quando non regge la pressione con piatti autolesionistici. Lui avrebbe tentato di disarmarla pur senza vedere cosa avesse in mano. Lei avrebbe fatto cadere qualcosa per terra. Un paio di forbici vengono repertate, ma non sono l'arma del ferimento. Maldonato racconta di aver ripulito il pavimento da tracce di sangue per non far spaventare le bambine. Gli investigatori scoprono che Siu aveva denunciato il marito per maltrattamenti il 5 maggio di un anno fa. Denuncia poi rimessa, dieci giorni dopo. Maldonato viene fermato e racconta agli inquirenti che è stata la moglie a convincerlo a mentire, raccontando la finta versione della caduta perché è terrorizzata dall'idea di finire nuovamente in un reparto psichiatrico, dove già era stata ricoverata nel 2012 per autolesionismo. Quello che emerge dalle indagini, di sicuro, è il ritratto di una coppia in piena crisi, un rapporto avvelenato da accuse reciproche, minacce, sospetti, tradimenti e un aborto. Ma secondo il giudice per le indagini preliminare, che reputa gravi gli indizi di colpevolezza per il reato di maltrattamenti, sono più deboli quelli sul tentato omicidio. Siu, infatti, anche quando rimane da sola con i medici, non cambia mai versione rispetto a quella del ferimento accidentale. L'uomo, inoltre, venne ritrovato con i vestiti puliti e non poteva essersi cambiato. Infine mette nero su bianco il GIP. L'indagato non ha mai posto in essere azioni violente nei confronti della moglie.